Buonasera, è un onore aggiungere l'ultimo tassello di una riflessione su Barche d'Italia che si è protratta per una settimana, chiamando in causa tante figure diverse di cui abbiamo potuto apprezzare la qualità e la varietà dei contributi. Vista la collocazione del mio intervento, ho creduto che la scelta più opportuna fosse offrire uno sguardo complessivo sul tema. Complessivo perché non mi soffermerò se non nella terza e ultima parte dell'intervento su questioni specifiche, molte delle quali sono già state discusse nel corso del convegno, e uno sguardo, perché si tratta del mio sguardo personale sul fenomeno Barche d'Italia, uno sguardo che inevitabilmente, forse non impropriamente, presenterà l'impronta della musicologia e della formazione culturale italiana. Una prospettiva non tra le più comuni nella barforsion. Quanto vorrei proporvi? Si dedicato al rapporto dell'Italia con Barche e i due successivi al rapporto di John Sebastian Barche con l'Italia. La cultura italiana ha preso coscienza di Barche soltanto progressivamente, soprattutto dalla fine dell'Ottocento. Esiste un precursore, padre Martini, colui che ancora nel cuore del Settecento, ancora in vita di Barche, riuscì a cogliere con grande intelligenza, con grande acutezza, da Bologna, da cui sostanzialmente mai si mosse, il merito singolare del signor Barche, uno dei primi che corrano per l'Europa. Padre Martini nella sua formidabile collezione aveva raccolto l'edizione a stampa della prima e della terza parte della Clavier Ruhlbung, dell'offerta musicale, dell'arte della fuga, e un piccolo gruppo di manoscritti, tra cui alcuni numeri del clavicembalo bentemperato, inclusa la fuga nel si bemolle minore dal primo libro che vedete riprodotta e proiettata di pugno in un manoscritto di pugno di Wilhelm Friedemann. L'Ottocento, per contro, ha rappresentato un secolo di interesse, curiosità diffusa per la musica di Barche. Si comincia con un aneddoto, ancora una volta bolognese, legato al compositore Otto Nicolai, che visitando la biblioteca del liceo musicale che aveva costituito Padre Martini nel secolo precedente, nel febbraio 1834 chiese se vi fosse nella quadreria anche un ritratto di Barche e gliene venne mostrato uno che in realtà non era di Barche, bensì del figlio Johann Christian, era il famoso ritratto bellissimo di Thomas Gainsborough. È molto interessante come all'epoca, 1834, si fosse perduta perfino la nozione del volto di Barche. Un Barche valesse l'altro, in qualche modo, al di sotto delle Alpi. E non a caso il tedesco Nicolai notò la mancanza di somiglianza col vero Johann Sebastian. Ma in realtà l'interesse per la musica di Barche non era spento. C'era stato un interesse didattico ancora piuttosto vivace nell'Ottocento italiano, soprattutto per la musica per la tastiera di Barche. John Zimmermeier impiegava nelle sue lezioni caritatevoli di musica a Bergamo la musica per tastiera di Barche e nel 1837 esultava per l'uscita dell'edizione del clavicembrolo bentemperato curata da Zerni. L'anno prima Bonifatio Eseoli aveva proposto diversi esempi del clavicembrolo bentemperato nel suo trattato Il maestro di composizione, pubblicato a Milano. Sempre a Milano veniva pubblicato nel 1843, l'anno dei Lombardi e la prima crociata, come allegato della Gazzetta musicale di Milano, l'organo di Casa Ricordi, veniva pubblicato Il Capriccio sopra la lontananza del suo fratello di Lettissimo, un lavoro giovanile di Barche che il testimone manoscritto in nostro possesso ci tramanda come Capriccio sopra il lontananza del fratro di Lettissimo, a riprova, si è detto per inciso, di una lontananza culturale o perlomeno linguistica del giovane Barche dall'Italia e insieme della vicinanza testimoniata dal titolo con i capricci frescobaldiani. Già nel 1830 l'abate fortunato Santini mostrava a Mendelssohn a Roma una serie di lavori vocali di Barche, tra cui il Magnificat e diversi Mottetti, e realizzerà poi di proprio pugno una versione in latino del libretto della Passione secondo Giovanni. Santini è in contatto con il nuovo dinamico bibliotecario del liceo musicale di Bologna, città dove torniamo a metà secolo, Gaetano Gaspari, cui invia nel 1856 la sonata del sommo maestro John Sebastiano Barche a tre pianoforti, promettendo gli altri lavori per Cembalo e una passione secondo Matteo. Quest'ultima Gaspari poi la comprò da sé per il liceo musicale di Bologna, l'istituzione dove avevano studiato Rossini e Donizetti, per la quale Gaspari nel 1842 aveva già copiato i ricercari dell'offerta musicale e l'arte della fuga per proporli come modelli di contrapunto. Sempre nella Roma di Santini il Marchese Domenico Capranica fa eseguire nel 1846 un mottetto bacchiano a proclifo Ich lasse dich nicht, du segnes mich denn. Mentre da Genova l'anziano Verdi ritorna più volte nel suo epistolario su Bach, ad esempio nel 1892 mentre sta componendo il Falstaff, nel quadro di una polemica sugli orientamenti della musica contemporanea. Verdi scrive a Hans von Bulow e gli invidia, così asserisce, la fedeltà della musica tedesca verso le proprie radici. Felici voi che siete ancora i figli di Bach. Ancora più importante, nel 1885 Verdi aveva discusso con Boito sul significato espressivo di un passo preciso del crucifixus della messa in sì minore. In realtà però la vera svolta avviene con gli ultimi anni del secolo, in cui l'atteggiamento di Verdi che abbiamo appena descritto rappresenta già una visaglia. Solo con l'ultimo decennio dell'Ottocento infatti si arriva all'acquisizione definitiva di Bach alla cultura italiana. Le sottoscrizioni alla Bach Osgabe danno il polso del mutamento di atmosfera. I primi opere omniabachiani del 1851 vengono inviati in Italia ad appena quattro sottoscrittori. A Milano, al Conservatorio e alla libreria dell'editore italo-svizzero Ulrico Höppli. A Napoli, a Francesco Florimo, il bibliotecario del Conservatorio. E a Roma, al compositore e direttore tedesco Herman Wichmann. Pensate, per fare un confronto, che in Svizzera erano allora sedici i sottoscrittori di questo primo volume. Mezzo secolo più tardi, nel 1899, quando l'impresa si compie, al volume conclusivo della serie i sottoscrittori in Italia sono già diventati dieci. Si aggiungono una serie infatti di istituzioni, il liceo musicale di Bologna, il Conservatorio di Firenze, il liceo musicale di Pesaro, l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, la Biblioteca Palatina di Parma e poi Arrigo Boito da Milano, Rocco Pagliara da Napoli e il filologo Friedrich Spiro da Roma. Ma ci sono altre importanti avvisaglie di come Bach stia diventando un fenomeno acquisito per la cultura italiana. Nel 1888 Marco Enrico Bossi vince ex equo il concorso della rivista milanese Musica Sacra, ideato sul motto proposto da Arrigo Boito, sede a Bach. Sempre a Milano è molto attivo in connessione con la società del quartetto il conte Francesco Lurani, che raccoglie, promuove e traduce la musica vocale di Bach. Il quartetto dedicò a Bach due serate già nel 1894. La prima esecuzione della passione secondo Matteo avviene nel 1911 a Milano, così come quella della passione secondo Giovanni due anni più tardi. E c'è una manifestazione su cui vorrei attrarre la vostra attenzione, perché l'attività pionieristica dell'Urani, che aveva attirato anche l'interesse di Lorenzo Perosi, propiziò un concerto storico, il concerto bolognese della Società del Quartetto di Bologna del 4 e 5 giugno 1899, che propose in abbinamento una cantata bacchiana, Jesu der Du meine Sele, e la nona sinfonia di Beethoven, come a dire due emblemi della musica tedesca. Questa cantata e la nona sinfonia vennero diretti da Giuseppe Martucci, un alfiere del rinnovamento della musica italiana, e aveva la cantata come testo la traduzione in italiano, in italiano in rima, in italiano quasi melodrammatico, appunto del Conte Lurani. Un testo che mostra in qualche modo il livello del dialogo tra le due culture, perché appunto in questo italiano tardo ottocentesco viene reso l'originale tedesco dell'inno secentesco di Johann Rista. Il percorso anche di Bach nella cultura del Novecento italiano, perché ad acquisizione già avvenuta, cioè sostanzialmente all'altezza entro la grande guerra, si tratta della storia di una relazione ormai stabile, di cui mi limito a segnalare due livelli. Da un lato, la ricezione creativa, cioè il rapporto, il dialogo con Bach è un confronto che si rivela molto produttivo nella risposta degli artisti italiani a bar, dei musicisti, degli interpreti, dei compositori. Mi limito a ricordare uno degli ultimi progetti di Luciano Berio, cioè il progetto di rielaborazione e completamento da lui coordinato dell'arte della fuga nell'anniversario bacchiano del 2000. Ma non solo sono coinvolti i musicisti, bensì tutti gli artisti italiani, l'arte italiana a tutto campo. E qui ho esemplificato questo processo, questa realtà, con un fotogramma del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. L'altro livello cui si muove la ricezione di Bach nell'Italia del Novecento è la costruzione di una consuetudine di ascolto, di una familiarità con Bach, avvenuta soprattutto negli ultimi decenni. Basta guardare a quanto Bach e a quale qualità di Bach si è fatto e si fa in Italia. Dall'anno europeo della musica 1985 in avanti, potremmo dire, anno che aveva già visto l'uscita del più cospicuo lavoro musicologico mai prodotto dalla musicologia italiana attorno a Bach, cioè la monografia fra un musica di Alberto Basso. Anche qui propongo un solo esempio, cioè la tavola relativa all'esecuzione integrale delle cantate bachiane negli oltre 90 concerti delle settimane Bach promosse dalla Società del Quartetto e dal Comune di Milano nelle chiese monumentali della città, con la partecipazione dei massimi interpreti del panorama internazionale. Una prova dell'interesse del pubblico italiano all'ingresso di questo nuovo secolo, delle capacità organizzative e della determinazione della cultura italiana nel realizzare progetti di ampio respiro nel nome di Bach. Fin qui la prima anta del trittico che ho pensato di proporvi. Le prossime due rovesciano la prospettiva che viene ora a partire direttamente da Bach. Bach e l'Italia. Benché notoriamente per una delle tante ragioni biografiche che incisero sulla produzione bachiana senza tuttavia impedire nulla che non fosse, come dire, determinato dalla volontà e dalla determinazione del compositore, benché appunto Bach non abbia mai messo piede nella penisola, e vedete una nota cartina geografica che espone i luoghi, che mostra i luoghi dove si svolge la sua esistenza, il rapporto di Bach con il nostro paese è stato precoce e continuo. Bach intrattenne per tutta la vita un dialogo intenso con la cultura musicale italiana, che conobbe e fece propria come pochi altri in Europa. Forme, tecniche, stili, strumenti, generi elaborate e coltivati da molte generazioni di compositori italiani in un arco vastissimo da palestrina per golesi, costituirono un punto di riferimento costante e imprescindibile nell'officina creativa bachiana. Dalla musica per le tastiere a quella da camera, dal concerto alla musica vocale da chiesa, fin dagli anni della formazione e fino agli ultimi di attività. Ho individuato quattro occasioni cruciali per questo dialogo tra Bach e la cultura musicale italiana. Per l'Ofano di Eisenach, sprovvisto di munifici mecenati in grado di instradarlo nel classico viaggio in Italia, venire in contatto con la musica italiana fu una fortuna che gli capitò sin dall'apprendistato col fratello maggiore Christoph a Ortruth. Questo avvenne in un momento, in anni, che sono ben compendiati da un episodio, da un aneddoto degno del boccaccio raccontato dal necrologio. La copiatura clandestina della preziosa antologia per la tastiera custodita gelosamente da Christoph. Bach, in un armadietto chiuso a chiave, prendeva nottetempo, così si racconta, ancora adolescente, ospite del fratello, prendeva nottetempo questa partitura preziosissima facendo passare il manoscritto dalle maglie della grata in cui era custodita. La formazione che risale agli anni di questo aneddoto attinge a un repertorio anche italiano che spazia da Frescobaldi alle Grenzi, da Stefani a Boloncini ad Albinoni e dà la vita a un lavoro emblematico, redatto probabilmente tra il 1705 e il 13, che nel suo testimone manoscritto più antico riporta il titolo di Aria variata alla maniera italiana. Una serie di dieci fantasiose variazioni a due voci su un'aria di sapore italiano anche nell'invenzione melodica. Il servizio alla corte di Weimar rese invece possibile, con modalità meno avventurose, l'approfondimento della cultura musicale italiana grazie al rifornimento di musica stampa e manoscritta assicurato dalla fornitissima biblioteca del Duca di Weimar, straordinariamente accresciuta dal principe Johann Ernst nel 1713. È notoriamente questo un momento cruciale nell'assimilazione di tecniche e peculiarità stilistiche del concerto italiano, attraverso la trascrizione di una cospicua serie di lavori di Vivaldi, Torelli, Alessandro e Benedetto Marcello, per le tastiere del clavicembalo e dell'organo. Una conoscenza che viene immediatamente tradotta in prassi compositiva. Durante gli anni della maturità trascorsi all'Ipsia, sono invece due i poli del confronto con una italianità musicale, aggiornata rispetto ai modelli attinti negli anni giovanili e assolutamente moderna. Da un lato il repertorio di musica da chiesa della chiesa di corte di Dresda, per la quale Bach realizzò il nucleo originario della messa in sì minore. Dunque essenzialmente si tratta del modello della messa concertata in stile napoletano, che nella Dresda cattolica italianizzante di re Augusto III era presente con i lavori di Lotti, Einigen, Zelenka, Hasse, e che si alimentava dell'approvvigionamento diretto da Napoli, dove una principessa sassone era andata sposa di Carlo di Borbone. E da cui arrivavano lavori di Leo, Durante, e anche quello Stabatmater di Pergolesi, di cui è stata discussa qualche giorno fa la riscrittura bacchiana. Nell'immagine proiettata vedete il chirio della messa in do minore di Francesco Durante, che Bach adattò alle esigenze di Lipsia. Infine, il collegio musicum di cui Bach assunse la direzione 1729 per mantenerla per una dozzina d'anni, è il secondo polo di questa italianità che anche a Lipsia parla forte e chiaro al compositore. L'attività concertistica di taglio eminentemente ricreativo che si teneva al caffè Zimmerman proponeva un repertorio che, almeno rispetto alla musica vocale, era interamente italiano e moderno. Ad esempio una serie di cantati di Nicola Porpora, il maestro di Farinelli, ed attore di lavoro del giovane Haydn a Vienna negli anni 50, da cui Haydn riconobbe d'aver appreso i veri fondamenti della composizione. Dunque Porpora un vero ambasciatore della cultura italiana nell'Europa del Settecento. Ma su quali piani, attraverso quali dinamiche, si svolse il dialogo tra Bach e il linguaggio musicale italiano? Il dialogo di Bach con l'Italia musicale si sviluppa a più livelli. Attraverso un processo continuo di comprensione, appropriazione, declinazione personale, quest'ultima condotta con una tensione all'ibridazione con altri modelli eterogenei mutuati dalle civiltà musicali francese e tedesca. E con un tale tasso di originalità da risolversi in un personalissimo radicale ripensamento dei modelli italiani. Iniziamo dal piano dell'appropriazione. Ho indicato qui tre ambiti nevragici. Vorrei tralasciare la prima e più evidente operazione di appropriazione, cioè le trascrizioni di Weimar. Un passaggio importantissimo, su cui molto è già stato scritto, che rappresenta sicuramente un momento chiave tanto nell'assimilazione da parte di Bach della più moderna scrittura strumentale italiana, in particolare nel genere progressivo del concerto solistico, quanto più in generale come fondamentale riflessione sulla forma musicale. Dirò invece qualcosa sul microcosmo delle Kirche Musiken e sull'oratorio. Le Kirche Musiken, cioè le cosiddette cantate, esibiscono di continuo un commercio intenso con i generi italianissimi della cantata, del concerto e dell'opera. Al di là di qualsiasi nominalismo, cioè non soltanto i termini cantate e concerto appaiono nei frontespizzi di questi lavori, come avviene qui nell'intestazione della cantata Geistunsele Wirtzerviret, Beve V35, intestata, come vedete, come concerto a sinistra e a voce sola nel centro dell'intestazione. Ma i principi costitutivi stessi dei due generi contribuiscono a definire strutture formali e orientamento espressivo della principale composizione da chiesa che Bach era tenuto a produrre regolarmente per i suoi doveri contrattuali ipsienzi. L'adozione dei modelli italiani della cantata, del concerto e dell'opera nella Kirche Musikenbachiana copre peraltro l'intero percorso creativo del compositore. Indico qui tre lavori che appartengono a fasi ben distinte. Una prima cantata giovanile, risalente al più tardi al 1709, The Herr Denket Annuns, Beve V196, che fa esplicito riferimento alle forme italiane del concerto e dall'aria col da capo. Mein Herz ist Wint im Blut, Beve V199, scritta per Weimar in una prima versione plausibilmente nel 1713, e intestata nell'autografo oggi a Copenaghen in italiano, Cantata a voce sola, quale effettivamente è, col suo regolare alternarsi di recitativi e ari col da capo, cui si aggiunge un corale che si avvale della forma del concerto strumentale. E infine la già citata Geistunsele-Wirter-Wirret, scritta per l'Ipsia nel settembre 1726, ormai a valle della grande produzione di cantate del 1723-1725, un'autentica cantata all'italiana per voce sola, le cui due parti si aprono con altrettanti movimenti di concerto. Segnalo anche due cantate nuziali, sebbene non strettamente liturgiche, che Bach concepì nello spirito cameristico della cantata italiana. Cantata a voce sola, e infatti intestata nelle parti originali, la Bebevau 210, o Holdertag, Erwüste Zeit. La Kirche Musikbachiana non si nega nemmeno riferimenti espliciti al melodramma, come avviene col ricorso a vere e proprie aree del sonno, perfettamente riconducibili alla tassonomia del melodramma italiano coevo, come quella che campeggia nella cantata Gott ist unser zuversicht, Bebevau 199, oppure quella che vedete proiettata qui, appartenente alla cantata Mache dich mein Geist bereit, Bebevau 115. Ach schleffliche Seele è infatti una monumentale area del sonno, in cui l'orchestra d'archi colorata dal timbro del lobo d'amore avvolge la voce nell'atmosfera scura e intensa d'una siciliana. Una parola anche rispetto a un processo di appropriazione che risale alla piena, se non alla tarda maturità di Bar, cioè agli anni 30 del Settecento. In particolare avviene tra il Natale 1734 e la Pasqua del 37 o 38, quando Bar adottò per tre volte il termine oratorium per definire altrettanti lavori per perfettamente intercambiabili dal punto di vista liturgico con le cantate composte in altri anni per le medesime occasioni, eppure esorbitanti rispetto al taglio classico delle cantate. Il riferimento al genere italiano e l'oratorio, molto popolare anche in Germania, implica una maggiore indipendenza testuale rispetto al dato delle scritture. Fermarestando la puntuale fedeltà alla narrazione evangelica, Bar mette a frutto la concezione originale di un libretto d'oratorio, portato della tradizione italiana. Un libretto stilato interamente da un poeta moderno in funzione della sensibilità dei fedeli contemporanei, canovaccio alla cui articolazione ed efficacia la musica offre il proprio contributo in misura determinante. Incentrati su altrettanti capisaldi della cristologia, incarnazione, resurrezione, ascensione, i tre oratori mirano a coronare e superare al contempo il raccolto ormai più che decennale delle cantate, aspirando a uno statuto artistico che è l'innalzio al di sopra della pur prodigiosa quotidianità della produzione concepita per il servizio liturgico ordinario. Per tre volte il maturo Thomas Cantor declina in questi termini quella vocazione sperimentale che ne caratterizza l'intera produzione, cui applicata a una composizione vocale per la chiesa sul crinale di generi diversi, la Kirche Musik tedesca e l'oratorio italiano. L'operazione di Bach però è più sottile che non la semplice assimilazione di modelli italiani. Si muove anche su altri piani, di straordinari interesse ed ambizione e totalmente suoi. Bach mira cogliere e restituire in singoli lavori o in raccolte, per così dire esemplari, la quintessenza dei generi e degli strumenti provenienti dall'Italia, in un processo di astrazione, decantazione, definizione del linguaggio musicale italiano. In qualche modo l'ambizione è quella di reinventare l'italianità dal punto di vista di un osservatore straniero che l'ha fatta propria, l'ha compresa profondamente e l'ha ben metabolizzata. L'astrazione del genere del concerto e dei suoi principi sono due lavori che paradossalmente non richiedono nemmeno un gruppo strumentale. Il concerto a due cembali senza ripieno, BVV 1061A, composta a Weimar o al più tardi nei primi anni di Kurten, e il concerto nach italienischem gusto, affidato alle stampe nella seconda parte della Clivi Rubung, con un titolo che più programmatico non potrebbe essere del processo di astrazione cui si faceva riferimento. Definizione del genere musicale del concerto è naturalmente la raccolta dei si consera avec plusieurs instruments, cioè concerti bandeburghesi, versione personalissima e coloratissima del genere che va ben oltre qualsiasi modello italiano. Estremamente progressiva è anche l'impresa dei 14 concerti per uno più clavicembali, forse anche fortepiani, giunti fino a noi e messi a punto per il Collegio Musicum di Lipsia a favore di uno strumento che in Italia non si vedeva, se non di rado, riconosciuto lo statuto di solista. Un'operazione che pare il compimento di quel dialogo tra il genere del concerto e la tastiera avviato a Weimar attorno al 1712. Ma non meno carattere di definizione a quella del repertorio solistico per due strumenti italianissimi come il violino e il violoncello, cioè le raccolte di sei solo a violino, cioè le sonate partite per violino, e delle suite a violoncello solo, che soprattutto nel caso delle suite per violoncello rappresentano paradossalmente il vertice del repertorio di uno strumento italiano per eccellenza realizzato da un compositore che nell'Italia dei grandi violoncellisti, dei boloncini, di Franceschiello, delle allieve di Vivaldi, non aveva mai messo piede. Un piano ulteriore è costituito dalla ibridazione e dalla declinazione personale del modello italiano. Nel suo catalogo Bach elaborò una concezione del fenomeno musicale in cui esercitano pieno diritto di cittadinanza stili appartenenti a nazioni e persino a epoche diverse. Un crocevia in cui modelli delle nazioni dominanti, l'Italia e la Francia, esemplare appunto il dittico cembalistico di Ouverture, la francese concerto nel gusto italiano della Clavier Rubung, si conciliano nell'alveo tutto tedesco dei gouroumi, ma con un'ampiezza di prospettiva che domina momenti storici remoti, la polifonia polistriniana e la modernità sentimentale dello Stavart Mater di Pergolesi, e realizzano un'autentica sintesi originale. Lo testimoniano in un processo di interferenze e cortocircuiti virtuosi tra stagioni, luoghi e generi, già il progetto ambizioso dei concerti brandeburghesi. Nei brandeburghesi il compositore coniuga la lezione assimilata dai modelli italiani di Vivaldi, Corelli, Albinoni e Marcello, col contrapunto rigoroso, e alcune strutture della musica vocale, imprimendo al genere concerto una sigla personalissima. Conteso tra i due stili nazionali egemoni, l'italiano e il francese, è ad esempio l'ampio primo concerto brandeburghese, che accosta pagine che si rifanno alla scrittura del concerto, anche con la mediazione di quella vocale dell'aria col da capo, facendo risaltare il violino piccolo grazie al materiale tematico di un ritornello stilizzato e vigoroso, accosta dicevo queste pagine all'italiana a un appendice francese che costituisce l'ultimo tempo, in cui al passo misurato di un aggraziato minuetto l'orchestra al completo cede via via la scena al timbro vattato dei legni, è il trio re minore per due oboi e fagotto dall'organico estremamente francese, al colore omogeneo degli archi, la polonaise, infine alla squillante fanfala marziale di corne e oboi nel secondo trio. Non meno dialogiche nel rapporto, nel commercio e tra stili nazionali, nella contrapposizione tra stili nazionali, risultano le sonate partite per violino solo, che prevedono una commistione sottile e non rigida di influssi italiani e francesi. Oltre a evitare sistematicamente il termine francese di suite, Bach dissemina le partite di elementi italiani, impiegando volentieri varianti italiani delle danze. Si considera infine l'ouverture per orchestra numero 2 in sì minore, una celebre pagina per flauto concertante e orchestra che vide probabilmente la luce in una prima versione col violino solista Köthen e fu rielaborata poi per il traversiere Alipsia. La presenza dello strumento solista suggerisce a Bach un'interessante commistione tra la forma francese e l'ouverture e quella italiana del concerto, il cui influsso è percepibile sin dalla pagina d'esordio. Aperta con la tradizionale gestualità solenne del movimento lento introduttivo, l'ouverture prosegue infatti sul passo leggero di un contrapunto giocoso, una sorta di allegro di concerto che propone una successione di ben cinque soli del flauto e altrettanti tutti dell'orchestra in regolare alternanza, finché con uno scarto rispetto alla tradizione la sezione conclusiva lentement rifiuta di riprendere con esatta simmetria il primo movimento. Fin qui l'ibridazione. Ancora più interessante è il processo di declinazione personale che Bach imprime al linguaggio musicale italiano. Nei termini di una acculturazione all'ambiente tedesco in cui il compositore si trova ad operare e a cui appartiene. Si considera la chiusa della parte seconda dell'oratorio di Natale, che era stata aperta dalla celebre sinfonia, un unicum dell'intero oratorio come apertura alternativa al consueto coro, chiamata a stabilire il tono pastorale di questa seconda parte, dedicata al racconto della nascita di Cristo, preparando simbolicamente, attraverso il timbro di oboe e violini, l'ingresso dei personaggi della cantata, e cioè rispettivamente i pastori e gli angeli. Erede della sonata pastorella di Scelle delle pastorali italiane, questa pagina si incarica anche di realizzare un'enclave autonoma all'interno dell'oratorio di Natale, tramite la sua ingegnosa ripresa nel corale conclusivo della parte seconda, quello che vedete. L'assemblea che il 26 dicembre 1734 assistette prima nella Thomas Kierke e poi nella Nikolai Kierke alla cantata per il secondo giorno di Natale, si confrontò dunque con una pagina che rappresenta l'integrazione personalissima e ricchissima ai significati simbolici, tra la seconda strofa dell'inno corale secentesco di Paul Gerhardt, Dir Zinger Dir Immanuel, su musica dell'inno von Himmelhoch da Comicher attribuita a Lutero, e la musica della pastorale italiana, che attualizza in orchestra la drammaturgia sacra della notte di Bethlehem, ricorrendo a un sound tipicamente italiano, ma timbricamente del tutto bachiano, nel ricorso a quei legni che al di qua delle Alpi sarebbero rimasti senz'altro in secondo piano. Il penchant di Bach per l'ibridazione risulta infine evidente in un lavoro di grande fascino interesse, Jaffset Gott in Allen, London, BVF 51, che fonde in modo del tutto eccezionale due tradizioni affatto diverse. La struttura fondamentale va ricondotta al modello del mottetto solistico, coltevato assiduamente negli ospedali veneziani, di cui Bach adotta la sequenza quadripartita, aria, recitativo, aria, alleluia, applicandola tuttavia a una lingua differente, il tedesco e non il latino dei mottetti, e interpolandovi il corale della tradizione luterana, un elemento del tutto eterogeneo rispetto al modello italiano della composizione. La giusta posizione tra il penultimo numero, il corale Zailobun-Praismith-Eren e l'alleluia conclusivo, ben esemplifica il dialogo tra due diverse civiltà musicali, restituite con meravigliosa efficacia da quell'insuperabile maestro dell'integrazione che è stato Bach. Con questo ascolto chiudo la seconda parte dell'intervento e vi rimando alla terza. all'intervento e vi rimando alla terza. All'intervento e vi rimando all'intervento e vi rimando alla terza. All'intervento e vi rimando alla Art, di non lo solle che si un'imposione sui, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.